buonasera a tutti stasera facciamo un'altra recensione faccio vedere un altro bel localino mi trovo a Rende mi trovo da Gizmo penso che si pronunci così scusate la prima volta che vengo qui vengo in questo posto adesso entrerò siamo in 5 se non sbaglio e vorrò vedere come si mangia e come si paga ok ragazzi adesso vi faccio vedere che cosa che cosa servono in questo posto in questo qua il menu quindi ci sono degli snack degli aperitais poi dei schizzi fritti poi ci sono i panini poi delle insalate piatti e piccola griglieria quindi abbiamo un pochino di tutto abbiamo dei dessert anche ecco logicamente c'è ci sono tutti i drink e più di altro questo è un posto per per stuzzicare per bere qualcosa quindi abbiamo birre alla spina bebe in bottiglia abbiamo dei vini rossi rossi rossati bianchi insomma c'è un pochino di tutto ok ragazzi ora provo una una bella polpettina che fra volte mi ero scordato di provarla perché mi sono messo a parlare quindi con quella provo vediamo com'è beh c'è la carne questo lo posso dire se non è solo pane comunque adesso arriverà io mi ordinato un piatto ci sono dei panini mi darò vedere quello che succede ok adesso vi faccio vedere un panino è fatto con pollo cosa c'è dentro insalata iceberg grana padano maionese e questo era un panino vi faccio vedere un piatto ho preso un hamburger con lo cheddar di sopra e la cipolla caramellata e in più c'è un'insalatina vicino anche ragazzi questa è la parte che state aspettando un pochino tutti quanti per vedere com'è come si paga come si mangia ve lo dico subito anzi ve lo dirò fra poco allora vi farò vedere com'è come si paga in questo posto comunque vi faccio vedere più o meno quello che abbiamo preso non lo ripeto tanto tanto si legge comunque totale sono 70 euro in cinque persone abbiamo preso calici di vino, birre hanno preso della tequila, patatine britte, polpette anche le polpette che vi ho fatto vedere poco fa insomma abbiamo mangiato e abbiamo bevuto quindi è stata una bella serata ragazzi vi consiglio questo posto perché se neanche cambiamo la vita sempre le stesse cose parlo con i cosentini più che altro visto che siamo a Rennes e qua si può dire che siamo a Cosena quindi è la stessa cosa comunque ragazzi bel posto, vi è piaciuto bell'ambiente siamo stati bene, è stata una bella serata eccolo così non vi scordate di iscrivervi al canale un pollice qui in su ragazzi al prossimo video ciao bene ciao ciao ciao